E finalmente ci siamo, ragazzi! Oggi cercherò di non dilungarmi in chiacchiere, perché non vedo l'ora di andare a spacchettarmi lo starter pack e i pacchetti, che anche di questi ne abbiamo un po', ma oggi sono qua a chiedervi. Se volete che già domani, nel prossimo video, vi porto un box da 100 bustine, 80 euro che mi portano così, arriviamo, regà, a 922 like. Numero a caso. Se arriviamo a 922 like, io subito domani vi porto un box da 100 bustine, regà. Cosa andremo a fare oggi? Oggi ci spacchetteremo lo starter pack più un tote di pacchetti, Poi comunque vi darò alcune news riguardanti le rucchi che ci sono all'interno e soprattutto quali saranno gli obiettivi di questa raccolta, perché ce ne sono veramente parecchie. Vi ricordo che se ancora non l'aveste fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, che si trova proprio qua sotto. È completamente gratuito e come ben sapete, questo è un canale di malati, con il sismo come me. E vi ricordo anche che se volete sempre essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo palini, sulle rucchi, se lo esaurite, su tutte le uscite, vi lascio il link in descrizione della mia pagina Instagram, che regà, con le mie storie siete sempre aggiornati su tutto. Quindi se siete malati con il sismo, seguitemi. Detto questo, non perdiamoci in chiacchere e andiamo di là a spacchettare. Eccoci qua, ragazzi, pronti a spacchettare questo mini meraviglia, lo starter pack da 3,90€ che comprende album più 5 bustine. E poi ci spacchetteremo anche un bel po' di pacchetti di questa bellissima collezione a caccia di rucchi, top pair e quant'altro. Andiamo a fare il solito lavoro chirurgico. E abbiamo i 5 pacchetti gratuiti che non hanno alcuna differenza rispetto a quelli che si trovano nei box, quindi non ha senso collezionarli a parte questi. Sono esattamente la stessa identica bustina. Le troviamo magari nei box da 100 bustine. Regà, stavo sfogliando l'album e mi sono fermato sulla pagina dei nero azzurri, e la rucchi di Satriano purtroppo non ce l'avremo ancora quest'anno, perché la sua figurina non c'è ed è stato inserito negli altri titolari in rosa qua. Poi anche della Juve speravo ci fosse sull'è, ma anche quest'ultimo non c'è. Però in compenso abbiamo Caio George, che non sarà sicuro della sua rucchi, perché la sua rucchi era in Brasile, però comunque rimane la sua prima figurina in maglia Juventus. Qui abbiamo una pagina dedicata agli azzurri, poi più avanti scopriremo di cosa si tratta. E qui abbiamo tutto quello che possiamo trovare quest'anno in edicola. Abbiamo l'album hardcover, la confezione dell'axe che, regà, conviene a livello di prezzo, la bustina da 5 euro super calciatori, e poi, regà, da marzo abbiamo il set di aggiornamenti che comprende anche la team box. Regà, la cosa che mi incuriosisce di più è non perdere alla limited edition Cacciatore 2021 22, un'inizione esclusiva numerata e con una sorpresa per te. Vediamo cosa sarà. Andiamo ad aprirci il primo pacchetto ufficiale di questa collezione. Abbiamo Luca Gotti, l'alienatore dell'Udinèo! Prima figurina, regà, prima bustina, regà, seconda figurina, volevo dire, e troviamo subito Buffon al Parma in serie B, regà, bellissima, fantastico, partiamo benissimo. Poi abbiamo Patrick Cutrone dell'Empoli, abbiamo poi il trofeo della serie A team, quattro scudetti di serie C, e il codice per la digital collection dei calciatori di serie C. Siamo partiti bene, Buffon era uno di quelli che volevo trovare. Devo dire che le figurine mi piacciono particolarmente, molto belle. Abbiamo un giocatore del Venezia, tre giocatori del Cosenza, tre giocatori del Brescia, scudetto del Cittadella e scudetto del Milan. Terzo pack totale, dai! E abbiamo Mattias Vecino dell'Inter, poi abbiamo Nicolo Zagnolo, questo va direttamente in figo carriera, buonissimo. Poi abbiamo Zortea della Salernitana, scudetto del Napoli e Sebastiano Luperto. Dagli con il prossimo pack, vediamo cosa troviamo ora. Tre giocatori del Frasino e altri tre giocatori del Parma. Poi abbiamo Ceccherini dell'Ellas Verona, Ture del Genua e lo scudetto dell'Ascoli. Cercherò di essere più rapido possibile, vediamo. Abbiamo Olaina del Torino, abbiamo una mascotte, la prima mascotte che troviamo, veramente molto bella. Scudetto del Pordenone, Agudello dello Spezia e Bessa dell'Ellas. Siamo al sesto pack totale, vediamo, dagli. Un'altra mascotte, poi abbiamo Cranio e Vicario, i due portieri. Poi abbiamo Tiago Motta, natore dello Spezia, Vacca del Venezia e l'ultimo è Teo Hernandez del Milan più il codice. Andiamo con il prossimo pack, vediamo cosa troviamo ora. Benissimo, dopo sette pacchetti troviamo la prima doppia ufficiale, il giocatore del Venezia. Abbiamo tre giocatori della Regina. Ah, ancora Buffon, altra doppia. Due doppie dopo sette pacchetti, non è per nulla male. Abbiamo Chiomba della Saritana e la maglia del Bologna. Madò, regale doppio, quanto le sto odiando, Dio. Tre giocatori del Monza, poi abbiamo Benassi della Viola. Abbiamo tre giocatori del Perugia, maglia dell'Ellas e scudetto dell'Atalanta. Vi dirò, mi piace particolarmente a me questa collezione. Xim Lopez del Sassuolo, Mere del Napoli. Poi abbiamo una Mascot con tre Leoni. Caprari dell'Ellas e lo scudettino del Monza. Daglie subito con il prossimo pack. Vi ricordo, regà, 922 likes, avete il box da 100 bustine. Squadra del Napoli, tre giocatori dell'Ascoli. Poi abbiamo una Mascot. Il Gallo Belotti, che non sta facendo benissimo, ma comunque rimane un bel top player. E Andrea Ranocchia dell'Inter. Bello anche il fatto che mettono anche i giocatori con le terze magliette. Prossimo pack, Daglie, vediamo cosa troviamo ora. Sicuramente, regà, una rookie molto importante che gioca in Serie B è Luca del Pisa, che vorrei trovare e non vedo ora, onestamente. Abbiamo tre giocatori del Brescia. Quattro scudetti di Serie C. E gli erosischi della Salernitana. Vediamo subito con il prossimo pack. Tre giocatori del Frosinone. Due giocatori della nuovissima generazione dell'Italia, che sono Bettella e Bellanova. Zoroski dell'Empoli. Poi abbiamo... Ah, tammi avrà, regà, che questa è la prima figurina in Maglia Roma di questo ragazzo. E poi abbiamo lo scudetto del Napoli. Vediamo subito con il prossimo pack. Daglie. Abbiamo due giocatori delle nuove leve. Poi abbiamo Tuminello e Vignato. Giasi dello Spezia, Igor della Fiorentina e Nastasic sempre della Viola. Vediamo con il prossimo pack che ci dice un po' meglio. Abbiamo Calafiori e Del Prato dell'Italia. Poi abbiamo il numero 10 del Venezia, Aramu. Sturaro del Genoa. Poi abbiamo Provedere il Portillo dello Spezia. E Zappacosta dell'Atalanta. Andiamo subito con il prossimo picketing. Vediamo. Intanto abbiamo Simone Trimboli che sicuramente questa è il rookie, regà. Però magari non è un rookie importantissimo per il momento prima che esploda. Poi abbiamo la squadra della Roma. Quattro scudetti di Serie C. Musso dell'Atalanta. E Leonardo Mancuso. Andiamo con il terzo ultimo pack. Dagli, vediamo. Abbiamo Callon del Genoa che dovrebbe essere rookie. Tre giocatori del Cosenza. La mascota del Genoa, il Grifone. Lo scudetto del Cosenza. E... Vanoisen del Genoa. Penultimo pack per noi. Vediamo. Tre giocatori del Crotone. Barak dell'Ellas. Poi abbiamo Soppi. Classe 2002 dell'Udinese. Dovrebbe essere rookie questo, regà. Poi abbiamo Aaron Ramsey della Juve. E l'ultimo è Oliva del Cagliari. Ultimo pack per noi, regà. Vi ricordo ancora 922 like per il prossimo video. Tre giocatori dell'Ascoli. La squadra dell'Udinese. Poi abbiamo Badè del Genoa. Ciruzzo Immobile, signori. Uomo della Scarpa d'Oro, regà. Non potevamo chiedere di meglio come ultimo pacchetto. Ciruzzo Immobile. Il re del fantacalcio. E poi abbiamo anche Inseglar. Finiamo veramente in bellezza. Regà, spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo trovato qualcosa di veramente buono. Una delle mie preferite è sicuramente Buffon, che abbiamo trovato anche doppio. E con questa bellissima figurina di Niccolò Zognolo. Vi ricordo di sfondare il tasto like, perché a 922 like andrò a prendere un box da 100 pacchetti. Iscrivetevi al canale. E detto questo, vi lascio direttamente al prossimo video. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.